Niente da fare per il Suiterol costretto alla resa contro la prima della classe ovvero il Venezia capolista che si impone al Druso per 2 a 0 coi biancorossi che dovranno ora andare a caccia di punti salvezza nelle due trasferte consecutive che li attendono in rapida successione vale a dire mercoledì a Sant'Arcangelo e domenica a Lumezzane. Contro la capolista mister Colombo non può disporre dello squalificato Marcone né dell'infortunato Sarzi. Il modulo è il 3-5-2 col giovane Montaperto schierato fra i pali con la difesa confermata in blocco con Obodo in cabina di regia con Furlan che vince il ballottaggio con Bro a centrocampo e con Spagnoli preferito Agliozzi al centro dell'attacco. Avvio di match equilibrato col Suitero che si difende bene concedendo il primo affondo al Venezia solo al ventesimo quando Marsura sfonda sulla sinistra cercando e trovando la sponda di Soligo per il sinistro di Falzerano alto sopra la traversa. Sei minuti più tardi sul rinvio di Facchin bucano l'intervento prima di Nunzio e poi Bassoli con Geico che ha più nel pallone poi libera in area sulla sinistra Falzerano il cui piattone destro è abbondantemente fuori misura. Al ventinovesimo il primo affondo Biancorosso dopo bella azione manovrata con Tait che imbuca un buon pallone per Spagnoli la cui conclusione dai 20 metri viene disinescata in due tempi non senza affanno da Facchin. Due minuti più tardi il Venezia fraseggia bene al limite dell'area Biancorossa con Moreo che vede serve l'inserimento di Marsura il cui diagonali sul secondo palo non lascia scampo a Montaperto e vale l'1-0 per la capolista. Il Suitero patisce il colpo il Venezia mantiene il pallino del gioco e al 42esimo Geico sfonda centralmente costringendo al fallo di Nunzio che cagiona un calcio di punizione battuto e trasformato da Garofalo per lo 0-2 ospite parziale con il quale le due squadre vanno a riposo. Si riparte senza cambine entrambe le squadre con il Suitero che vuole provare a riaprire la partita e con Obodo che al secondo impegna Facchini in due tempi su punizione dai 35 metri. Il Venezia attacca meno rispetto al primo tempo e bada principalmente ad amministrare il vantaggio. Il Suitero continua a non incidere in avanti e allora mister Colombo toglie Spagnoli e inserisce gli ozzi. Top scorer biancorosso con 10 gol. Un minuto più tardi sventola di destro di capitano Furlan che si stampa sul palo. Neanche fortunata la squadra di Colombo con gli ozzi che al 24esimo sguscia via in area di rigore per poi servire sotto porta Tulli che prova due volte la conclusione in porta ma senza esito. Generoso il secondo tempo dei biancorossi ma la capolista concede il minimo sindacale ovvero sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cia. Una volé di sinistro di Bassoli respinta in tuffo da Fachin. Finisce 2-0 per il Venezia capolista con il titolo che dovrà necessariamente andare a caccia di punti salvezza nelle prossime due partite entrambe in trasferta. La prima mercoledì a Sant'Arcangelo e la seconda domenica prossima a Lumezzane.